Giulia, Majorana, facciamole un bel applauso. Grazie. Ok, siete state bene? Tutto ok? Siete ripresi dalla pausa, caffè? Ok. Allora, vendere e lanciare prodotti digitali con WordPress. Prima di parlare un pochino di chi sono, vorrei dirvi perché ho deciso di portare questo talk e se questo talk fa effettivamente per voi. Se volete vendere o iniziare a vendere i prodotti digitali, se volete capire come funziona un lancio e che cos'è effettivamente un lancio, e se volete, magari sapete cos'è un lancio, però finora avete utilizzato altre piattaforme. Quindi se volete utilizzarne una soltanto, che in questo caso appunto WordPress, questo talk fa per voi. Cosa impareremo? Impareremo che oggi è fondamentale creare un prodotto digitale e impareremo perché. E come vendere un prodotto digitale grazie al supporto di WordPress e qual è la migliore strategia per farlo, per venderlo. Allora, io sono una web designer, ma non solo, e lo sono dal 2015, quindi diciamo lontano, 2015 ho iniziato a utilizzare WordPress e ho lavorato per diverse agenzie e poi dal 2019 ho deciso di mettermi in proprio lasciando il mio lavoro da dipendente, perché volevo creare la mia attività digitale, la mia attività online. Ho creato un metodo e ho sviluppato questo metodo per aiutare le professioniste freelance ad automatizzare la vendita dei loro prodotti digitali, ma anche dei servizi di fatto. Quello che mi ha permesso di fare questo è il fatto che ho ragionato sempre per obiettivi e credo che tutti debbano avere la possibilità davvero di lavorare con il sorriso senza dipendere da nessuno, quindi non essere dipendenti. Qualcuno qua sa cos'è un prodotto digitale? Ok, bene, qualcuno lo sa. Ottimo, perfetto. Un prodotto digitale è il vostro abbonamento di Netflix o Spotify. Un tema WordPress, un plugin è un prodotto digitale, un corso, un webinar online è un prodotto digitale, ebook, pdf, template, un prodotto digitale e tutto ciò che una volta acquistato può essere consumato online. Perché i prodotti digitali? Nel 2020, sappiamo tutti cosa è successo, c'è sempre un primo e un dopo della pandemia, tutti si sono un po' arrangiati e lì c'è stato il boom dei prodotti digitali, ovvero tutti avevano l'esigenza di guadagnare di più, di incrementare il fatturato e quindi, non so se vi è mai capitato, anzi sicuramente vi è capitato, di accendere i social e trovare Tizio che promuove questo, Caio che promuove quell'altro e quindi sono spopolati corsi e webinar online e che lanciavano proprio prodotti digitali nella maggior parte delle volte. Ma da lì, il Research and Marketers, questa fonte, ci dice che nel 2025 raggiungeremo oltre 300 miliardi di dollari nel mercato globale delle learning. Quindi i prodotti digitali sono il futuro, dico io. Per questo è importante creare un prodotto digitale. Cosa differenzia un prodotto digitale da un prodotto fisico? Non ci sono costi di spedizione, i costi di creazione di un prodotto digitale sono ridotti rispetto a un prodotto fisico, anche la gestione è diversa. L'effort per creare un prodotto digitale viene fatto una volta sola e poi ti permette di avere molto più tempo a disposizione perché il prodotto possibilmente viene venduto da solo. Inoltre, un'altra cosa che fa, e questo l'ho provato anche con le clienti che seguo, è aumentare il valore del proprio brand, del personal brand. perché la naturale evoluzione di un personal brand, di un professionista di fatto è quella di fare qualcosa, cioè iniziare a lavorare per quel che fa, per esempio Giulia, web designer, e poi insegnare quello che fa. E quindi lo fa attraverso la formazione. Quindi aumenta ancora il valore. Quindi oggi è semplice vendere un prodotto digitale, soltanto in modo ipotetico, a livello operativo, poi ci sono tante cose da fare che vedremo oggi. Qualcuno ha mai provato a vendere un prodotto digitale? No, qui non ha mai provato. Hai provato a vendere un prodotto digitale, bene. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ok, quindi prima però l'hai creato sicuramente, hai creato il prodotto sicuramente, l'hai messo magari online, con una piattaforma esterna o con WordPress stesso, e poi probabilmente è stato promosso sui social. C'è un però in tutto questo. Se nei social non ti ascolta nessuno, non serve a nulla. Quindi come facciamo a farci ascoltare? Attirando l'attenzione. E come attiriamo l'attenzione? Con un lancio. Quindi il lancio ti permette di attirare l'attenzione sul tuo prodotto. Faccio nuovamente la domanda, se qualcuno ha mai provato a lanciare un prodotto digitale? Però è possibile che magari se siete qui, più o meno qualcuno ci ha provato. E cosa serve? La strategia, gli asset e la pianificazione. Adesso mi chiedo, secondo voi dove si colloca WordPress in tutto questo, no? Bene, WordPress ti aiuta nella creazione degli asset. La pagina opt-in, la pagina di vendita, la distribuzione del prodotto e la pagina del carrello, che poi sarà ottimizzata in un determinato modo. Ogni fase di un lancio, ogni asset si riferisce a una fase precisa di lancio, che vedremo oggi. Come per esempio la fase di pre-pre-lancio, quindi la fase di acquisizione del pubblico, in cui iniziamo ad attirare l'attenzione sul nostro prodotto, e ne è una fase in cui non stiamo però vendendo il prodotto, semplicemente diciamo che noi stiamo preparando qualcosa, stiamo preparando qualcosa che risolve il problema del nostro utente. E qui inizia anche la fase di lead generation, quindi creiamo una pagina opt-in, una pagina con un form in cui l'utente ci lascia il proprio contatto, e attiriamo l'attenzione. Lo possiamo fare, lo possiamo creare in due modi, una piattaforma esterna, oppure con WordPress, più un mailer. Adesso vi spiego bene cos'è il mailer. A noi piace WordPress, e quindi facciamo tutto con WordPress. Perché farlo con WordPress? Perché ci rende tutto 100% personalizzabile, magari una piattaforma esterna sì, ma non nello stesso modo in cui WordPress non ti può dare la stessa autonomia. Al contrario, la piattaforma esterna non ci può dare la stessa autonomia. E WordPress ti permette di fare un'analisi molto più accurata. Come ci aiuta WordPress in questo? Ci aiuta sicuramente a focalizzare l'attenzione, specialmente nelle pagine di opt-in, e mettere il focus in quello che è l'attenzione del prodotto. Quindi se dobbiamo chiedere un contatto, non avere l'header e il footer ci dà una mano. Con dei plugin aggiuntivi, come per esempio Elementor, che vediamo in seguito, ti permette di creare materialmente il layout della pagina, e ti permette di collegare il famoso mailer di cui parlavo prima. Adesso vi spiego di che cosa si tratta. Questo è il layout esempio base di una pagina di opt-in per raccogliere i contatti. Form, CTA, call to action e richiesta del consenso della privacy. Questa è una pagina invece un pochino più elaborata. è una pagina in cui non è presente soltanto il form, ma è presente anche il motivo per cui l'utente deve iscriversi. Cosa deve fare l'utente? Sicuramente si iscrive a questo webinar, sicuramente avrà dei vantaggi, e perché non può mancare al webinar? Questa è una pagina che ho strutturato per un lancio. Errori da non fare in una pagina di opt-in. Chiedere troppi dati. Se iniziamo a chiedere all'utente il numero di telefono, l'indirizzo di casa, no, non ce li darà mai. Quindi, nome, indirizzo e mail. Sono i necessari in questa fase. Non essere chiari. Che succede dopo? Va bene, ti do il mio contatto, ma cosa ci fai? Quindi è importante essere chiari. Non donare un regalo. In questa fase il regalo è la partecipazione gratuita ad un evento, che è un webinar. Però può essere qualsiasi cosa. Adesso lo vedremo in maniera più approfondita. Non chiedere il consenso della privacy. Vabbè, questo lo sappiamo, è illegale. Però dobbiamo chiederlo per forza. Ma voglio spendere una parola in più sul double opt-in. Il double opt-in è la doppia richiesta. Questa non è obbligatoria. Ovvero, non so se vi è mai capitato di iscrivermi in un form e ricevere un'email. Conferma la tua email. Ok, questa cosa non è obbligatoria, ma ha un valore. Garantisce una qualità migliore dei contatti. Quindi i contatti che possono essere spam o che possono essere falsi, per intenderci, in questo modo non li avremo nella nostra lista email. E questo ci garantisce un maggior tasso di apertura. Tuttavia, appunto, questa cosa è un passaggio in più. E a livello di usabilità è un gap per gli utenti. E quindi possiamo scegliere miglior qualità degli utenti oppure maggiori utenti, perché di fatto arriveranno più utenti. Creiamo un freebie. Questo è un altro errore che si fa, appunto. Non creare un lead magnet. Un gancio che permette di attirare l'attenzione sul proprio prodotto e attirare persone interessate. Cos'è un gancio? Cos'è un lead magnet? Un e-book, un webinar, mini-corso via email, una piccola parte del prodotto che andremo a sponsorizzare. Questo è un lead magnet, o cosiddetto freebie, come si dice in termini social. L'errore più grande che si possa fare è vederlo come una semplice calamita, come un semplice lead magnet proprio. Ma in realtà io credo che sia un vero e proprio biglietto da visita del proprio prodotto, del proprio servizio. Passiamo alla fase di pre-lancio. È la fase in cui stiamo un po' riscaldando il pubblico. È una fase in cui influenziamo l'utente che abbiamo raccolto e lo portiamo a credere che il nostro prodotto sia la soluzione perfetta per il suo problema. Perché quello che deve fare il prodotto digitale che noi vendiamo è risolvere un problema. Anche qui ancora noi non stiamo vendendo nulla. Stiamo semplicemente convincendo la nostra persona. E lo facciamo attraverso il famoso mailer di cui parlavo prima. È un software che ti permette di inviare delle email in maniera automatizzata a più persone contemporaneamente. Non esiste il mailer perfetto, ma esiste quello perfetto per le tue esigenze. E qui, se trovi quello giusto, conquisterete il mondo. Questo ve lo assicuro. Come ci aiuta WordPress? WordPress ci permette di collegare. Uno di questi mailer di cui vi parlo qui, vi cito qui, MailChimp, MailerLite, MailApp, sono tutti mailer che sono compatibili con WordPress. E ti aiutano a integrarli all'interno della pagina che noi andiamo a creare. Perché questo? Perché è 100% personalizzabile. Sia con il codice, per esempio MailerLite ti dà la doppia opzione, lo puoi creare da solo con il codice oppure lo puoi creare su MailerLite e portartelo all'interno del sito web. Arriviamo alla fase di lancio. Perfetto, presentiamo la nostra offerta. Il modo migliore per farlo è appunto un webinar, una masterclass. Si può fare anche con un evento live, se lo vogliamo fare live, però per essere coerenti con il concetto del digitale teniamoci appunto sull'online. Questo evento ti permette di dare un valore immediato al prodotto, perché è lì che tu stai presentando cosa effettivamente vale. E quindi questo è il lancio, effettivamente il momento in cui presenti l'offerta. Come ti aiuta WordPress? WordPress ti aiuta con Elementor, perché vai a creare prima l'opt-in, come abbiamo visto prima, è la pagina di vendita che ci servirà successivamente al lancio e con WooCommerce, che ti aiuta a creare e distribuire il prodotto in sé, il prodotto digitale. Adesso li vediamo nel dettaglio. Elementor ti aiuta a creare appunto la pagina di vendita, che deve essere focalizzata sull'obiettivo vendita. Si chiama così proprio perché è una sales page e le sales page sono un tipologia di landing page, quindi uno solo obiettivo, la vendita, la conversione dell'utente dal punto A al punto B. Questo è quello che deve fare, non deve fare nient'altro, quindi no header, no footer, no link social. La pagina di vendita deve essere focalizzata su quello che è la vendita del prodotto ed ogni elemento deve direzionare verso l'acquisto. Poi appunto invece c'è WooCommerce, che ti permette di creare diverse tipologie di prodotti. Il prodotto semplice che noi conosciamo, ma il prodotto semplice può essere reso virtuale o scalabile. Il prodotto virtuale è un prodotto perfetto per vendere delle consulenze o una serie di consulenze. Se magari abbiamo un mentoring che vogliamo vendere, non è necessario che scarichino nulla, possiamo creare un prodotto virtuale. Prodotto scaricabile invece, plugin, temi, template, qualsiasi cosa sia fisicamente scaricabile sul nostro dispositivo. Per renderlo un corso, come facciamo? Utilizziamo questo supporto, LearnDash, che ti permette non solo di creare una piattaforma che è per andare a distribuire materialmente i video che vai a proporre al tuo utente, ma ti permette con WooCommerce, comunica con WooCommerce, e ti permette di creare un prodotto corso. E quindi tu venderai esattamente quel prodotto. Poi vabbè, si può fare anche una combo di prodotti, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare, però il concetto è che con questa integrazione puoi creare una piattaforma all'interno di WordPress. Quindi non andiamo su piattaforme esterne, di cui non cito, perché qui parliamo di WordPress. Il post lancio. Dopo il lancio, l'utente approda nel carrello. Quindi abbiamo convinto l'utente, voglio acquistare, clicco il tasto acquista, e arriviamo sulla pagina del carrello. Affinché l'utente acquisti il nostro prodotto, la pagina deve essere ottimizzata. Non deve esserci nessuna distrazione neanche lì, non ci deve essere un doppio passaggio. Se ci fate caso, quando utilizziamo WooCommerce, l'utente passa prima dal riepilogo del carrello e poi al carrello stesso, dove possono compilare i dati. L'utente deve passare direttamente alla compilazione dei dati, perché altrimenti lo perdiamo. E non deve esserci neanche l'opzione coupon. Questo vi sembrerà strano, ma non so se vi è mai capitato di andare in una pagina del carrello, vedere scritto coupon, e andare a cercare se ci sono dei coupon disponibili. E quindi questo vi ha fatto andare fuori dalla pagina del carrello. E noi non lo vogliamo. Quindi dicevo prima, link diretto al carrello. Come lo facciamo? In due modi. O ci aiuta il plugin Direct Checkout, oppure possiamo creare un plugin ad hoc. Noi. Non è molto difficile. WordPress, WordPress, più che altro, no WordPress, WooCommerce ci aiuta impostando un'opzione reindirizza la pagina del carrello e recuperando l'ID del prodotto possiamo attraverso questo codice che è codice, questo link che vediamo qui, a creare un link diretto alla pagina del carrello. Quindi senza passare dal riepilogo dell'ordine. Come ottimizziamo la pagina del carrello? Innanzitutto in un prodotto digitale non è necessario che l'utente ci lasci l'indirizzo di casa. Noi dobbiamo spedire nulla. Quindi via, togliamo. Poi un'altra cosa, andare a ottimizzare a livello grafico anche i campi. I campi che devono essere compilati. Devono rimanere in un'unica schermata così che l'utente non debba fare scroll. E in questo ci può aiutare anche un'altra tipologia di plugin che è Checkout, File, The Editor. Riassumendo, i prodotti digitali, le learning in generale sono secondo me il futuro per incrementare il proprio fatturato e riuscire anche a guadagnare in modo passivo. WordPress ti può aiutare in una fase di lancio sia per la creazione degli asset che per la distribuzione del prodotto che per la distribuzione del corso. E la strategia migliore per vendere un prodotto digitale è attirare l'attenzione dell'utente su proprio prodotto. E questo lo possiamo avere con un lancio. grazie, io ho terminato, però vorrei aggiungere soltanto un'ultima cosa che non è presente qui. Un lancio può essere stressante e quindi quello che vi posso consigliare se qualcuno di voi volesse cimentarsi in questa cosa è godetevi il viaggio. Da quando attirate l'attenzione dell'utente, anzi da quando create il vostro prodotto, perché anche lì è uno stress, fino al momento del post-lancio, quando andate ad analizzare tutti i dati. Quindi sicuramente godetevi il viaggio perché il momento esatto del lancio è solo una piccola ciliegina, un piccolo tassello, ma tutto il lavoro viene fatto prima. Finito. Grazie Giulia. Ci sono domande? Lo bevo. Io ho solo una domanda in realtà. Allora, grazie intanto per il talk perché è molto interessante. Come dicevo prima, in realtà mi sono sbagliato, non ho ancora lanciato, ho lanciato un prodotto digitale, ma è più una maglietta. Puoi sbagliare in un altro momento. Ma la domanda vera mia era, tu hai parlato adesso di tutti questi metodi qua che mi sembrava essere comunque gratuiti o quasi. Però allora ho un dubbio, quindi secondo te effettivamente è possibile fare un lancio senza advertisement o fare qualsiasi altro tipo di pubblicità di pagamento? Cioè uno può fare un lancio a costo zero, giusto? Allora, dipende da quanto pubblico hai a disposizione. Perché, come dicevo prima, se nessuno ti ascolta non vai da nessuna parte, quindi è il pubblico che poi va ad essere protagonista di questa cosa. Sono le persone, di fatto. Cosa si consiglia? Se hai un pubblico già attivo, allora possibilmente già una mailing list attiva, va bene, puoi provare ad andare e vedi qual è la risposta effettiva del pubblico. Se invece non ce l'hai, non ti consiglio neanche di provare tanto le ads perché anche lì attiri comunque un pubblico freddo, quindi qualcuno che ancora non ti conosce bene. Quindi lo puoi fare, puoi fare le ads, ma ci vuole del tempo per riscaldare, quindi rendere consapevole quel pubblico di come tu stai lavorando. Questo. Quindi di fatto la cosa importante si può fare a corto zero, ma devi avere un pubblico attivo. Arrivo. Ciao. Innanzitutto ti ringrazio per il talk. Sono uno degli sviluppatori di WooCommerce e negli ultimi due anni stiamo lavorando molto sul site editor e tu hai mostrato plug-in come Elementor, ovunque cose che appunto sono fuori dal core di WooCommerce. Volevo chiederti se nella tua esperienza avevi utilizzato il site editor per questi tipi di lanci e come ti hai ritrovata? Se hai feedback? No, non ho utilizzato il site editor, ho utilizzato soltanto il plug-in di cui ho parlato prima, però ti ringrazio per avervelo detto perché sicuramente approfondirò questa cosa. Grazie mille. Altre domande? Ovviamente dall'altro lato. Volevo chiedere invece se ho già un pubblico attivo che interagisce con me sui social. Mi consigli di lanciare il prodotto soltanto con l'organico o affiancare anche le ads a pagamento oppure fare prima organico, vedere come va e aggiungere dopo la pubblicità a pagamento? Dipende tutto, come dicevo prima, dalla risposta che ricevi dal pubblico. Se il pubblico possibilmente ti chiede già quel determinato prodotto, vuol dire che è pronto. Puoi provare a mandare un questionario in cui cominci ad indagare se il pubblico ha esigenza di risolvere quel determinato problema che risolve il tuo prodotto. Quindi se riscontri che effettivamente c'è un'esigenza da quel punto di vista, allora puoi iniziare con l'organico e passare successivamente alle ads. Questo è una scelta, perché come dicevo prima, le ads funzionano, ti portano pubblico, ma è freddo. Quindi non ti conoscono. Cioè non è che se io arrivo mi iscrivo a Escarecol Freebie domani sono pronta. Ci vuole un po' di tempo ora che mi abituo al tuo modo di lavorare e che mi leggo a te. La persona compra ma perché vuol comprare non il tuo prodotto ma te. Cioè quello che effettivamente risolvi e come lo fai anche. Quindi cerca di capire se queste persone che tu hai, già che sono attive va bene, già sei avanti, però appunto cerca un attimo di capire se l'esigenza che risolve il tuo prodotto è richiesta. Cioè effettivamente il problema c'è. Altre domande? Bene, grazie ancora Giulia. Figurati. Grazie. 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 Grazie.